Ciao a tutti e bentornati su Starlet's Tube, io sono Sara e oggi sono qui con una nuova recensione librosa. Ho preso questo libro in cartaceo al Festival del Romance, dato che c'era l'autrice, con cui sono amiche, che rispetto moltissimo sia come scrittrice che come persona, e quando ho letto la trama non potevo non prenderlo, quindi mi sono inserita all'ultimo minuto nei pre-order per farmi tenere una copia e devo ammettere che era proprio quello di cui avevo bisogno. Dopo le pappine mentali di House of Love, di Nike Rohr, avevo proprio bisogno di staccare un momento, avevo bisogno di un po' di leggerezza, un po' di frizzantezza, un po' di romanticismo che non includa la vendetta sanguinaria. House of Love è bellissimo, ragazzi, leggetelo. Insomma, avevo bisogno di qualcosa che mi divertisse, mi distraesse e mi emozionasse, e l'ho trovato appunto in questo romanzo. Oggi parlo di The Love Trip, di Chiara Venturelli, questo è un self ed è un romance autoconclusivo, e devo ammettere che qui Chiara si cimenta in una delle tematiche che io preferisco nel genere romance, New Adam, comunque in generale, ovvero i viaggi on the road. Io ho veramente una passione per questo tipo di romanzi e ne leggo veramente pochi, perché ne trovo davvero pochi che mi interessano. Devo ammettere che forse uno di quelli che ho più apprezzato, che ho un viaggio on the road, è Il confine di un attimo, che devo inserire nella rubrica in poche parole e doveri leggere per metterlo qui, ma non c'ho tempo, quindi ne parliamo nella prossima vita, però è bellissimo, leggetelo perché è davvero straordinario quel romanzo. Il seguito, per me poteva anche evitare di farlo. Comunque sia, è bellissimo quel libro, e questo diciamo che è una cosa totalmente diversa, intanto qui non è un new adult, ma i protagonisti sono grandi e vaccinati, e soprattutto l'atmosfera è del tutto diversa, perché qui regna la frizzantezza, il divertimento e soprattutto la passione e anche, diciamo, la speculazione edilizia, Chiara Venturelli. Adesso comunque vi leggo la trama. Ve la leggo dal monitor del PC. A 28 anni appena compiuti, Margot ha un'ultima possibilità per convincere il suo capo di essere la persona giusta a cui assegnare il progetto che salverà l'agenzia pubblicitaria. Si tratta solo di raggiungere una località misteriosa e scattare qualche foto in compagnia del fotografo. Samuel è un 32enne affascinante e un po' scorbutico, direttore finanziario dell'azienda di famiglia, e di certo non è un fotografo. Per scoprire se il progetto in cui deve investire una truffa, deve tenere nascosta la sua veriale identità a Margot. Il viaggio in auto attraverso otto stati si rivela subito pieno di imprevisti. Tra camere d'albergo al completo, deviazioni di percorso e strani incontri, per Maggot e Samuel fingersi una coppia diventa quasi un'amitudine. L'atmosfera si fa presto rovente, e non solo perché la vecchia auta noleggia non ha l'aria condizionata. Cosa accadrà se il momento della verità arriverà troppo tardi, quando la passione avrà già percorso quasi tutta la strada? Questo qui è un self, come non so se ve l'ho già detto, comunque è un self, quindi lo potete trovare soltanto su Amazon, sia cartaccio che ebook. E sto appunto vedendo che se avete Kindle Unlimited, lo potete leggere tranquillamente con il vostro abbonamento. Io comunque, non sapendole leggere né scrivere, vi lascio come sempre il link diretto di Amazon per l'acquisto. Ok, ora per quanto bello il cartaccio, stupendo, io ho anche la dedichetta di Chiara, lo mettiamo giù perché non posso stare tutto il tempo col braccio alzato, e mettiamo la cover da qualche parte, che è bellissima comunque anche così. Allora, come avrete capito, questa è una commedia romantica, quindi naturalmente non c'è quella pesantezza magari di qualche romanzo. Ecco, l'Anx non è contemplato in questo romanzo. Margot e Samuel sono due personaggi praticamente agli antipodi, sono due persone completamente diverse. Margot è una persona solare, sempre molto disponibile, molto gentile, ma intrappolata, possiamo dire, in una realtà che le sta un po' stretta. Lei vuole molto bene la sorella Jodie, che lavora come governante per questa signora molto ricca che è Victoria, che si scoprirà poi essere la nonna di Samuel, e soprattutto c'è anche il personaggio di Alan, e io spero, Chiara, che mi darai una novella su Jodie e Alan, a questo punto la pretendo. Alan, appunto, è un personaggio che sfatta lo stereotipo della... come che si può dire? Dell'uomo scansa fatica, nel senso che lui sapeva di non essere tagliato per lavorare nell'azienda di famiglia, e quindi si è preso le sue quote e adesso vive di reddita, non facendo un cazzo dalla mattina alla sera. È onesto con se stesso, per quanto comunque abbia anche lui un pregresso a livello sentimentale abbastanza complicato. Samuel, invece, come abbiamo detto, è un po' scorbutico, dedito al lavoro, per lui non esiste nient'altro, non è che abbia molti altri interessi, la sua vita è a Parigi, dove appunto gestisce gli affari della sede parigina insieme alla madre, perché da quello che ho capito è la madre in realtà che comanda, mentre il padre gestisce quella americana. Quindi, di conseguenza, quando salta fuori questo progetto, che però puzza di truffa da un chilometro di distanza, serve appunto una verifica, qualcuno che vada a verificare, e l'occasione si presenta appunto quando l'agenzia di Margot è tra quelle in lista per accaparrarsi il progetto. Quindi, di conseguenza, i due sono costretti a viaggiare insieme. La cosa bella, la cosa che mi è piaciuta, è che sì, friccono subito come la tempura machi, poi vabbè, ci sono degli imprevisti, degli equivoci, che fanno schiattare da ridere, tipo l'incontro con Danny, che è questo ragazzo che fa le riprese nei luoghi. Allora, vi ricordate Resident Evil? I tizi della prima videocassetta, quelli che andavano nelle case a fare le case con delle storie un po' macabre e tutto, dove scompariva la gente e quant'altro, ecco, Danny fa quello. Per fortuna Danny non è mai incappato in una casa con gente come Evelyn. Se avete seguito i miei gameplay di quel gioco, potete capire che a quei tre non è andata per niente bene. E poi c'è anche un incontro con questo Lancelot, che è un collezionista, insomma, uno che acquista pezzi di antiquariato, si rompe la macchina, che quando si è rotta ed è arrivato, si è fermato il camionista, io pensavo che usciva quello lì di... Tu la conosci, Claudio? Com'è che si chiamava? Il carrozziere? Quello che cantava Pupo, mamma mia. Marco Messeri? Ecco, mi aspettavo che un Marco Messeri che arrivasse e cantasse le canzoni di Pupo, gelata al cioccolato, ecco, bellissimo. C'è da dire che appunto Margot è una persona che conquista, infatti Samuel le subisce subito il fascino, l'influenza, perché lei è molto carina, cerca di essere gioviale, ma lui, diciamo che, essendo che non si può sbottonare troppo, perché palesemente le sta raccontando un sacco di balle, perché lui non è un fotografo, lei infatti, essendo una persona molto curiosa, gli fa un sacco di domande, dove sei stato, quali posti hai visto, lui non ha visto un cazzo, può dire, lui lavora in ufficio, però diciamo che appunto, anche per questo motivo, Samuel cerca di tenere le distanze, e poi piano piano comunque riesce a lasciarsi un po' andare, e infatti i due friggono, e non solo per la mancanza dell'aria condizionata. E la cosa che mi è piaciuta appunto, è che sì, friggono per tutto il viaggio, però non ficcano, cominciano a ficcare quando, sì, c'è ancora chiaramente una trazione irresistibile, ma c'è anche già un minimo di coinvolgimento personale, nel senso che quando cominciano finalmente, quando finalmente riescono, poi anche perché comunque è stato imperito, in ogni modo anche, cioè si mette anche la febbre a un certo punto, quando appunto finalmente arriva il momento, in cui possono consumare, perché comunque la passione è bruciante, l'attrazione è irresistibile, la voglia è tanta, c'è anche comunque un po' di coinvolgimento personale, perché i due comunque hanno passato già abbastanza tempo insieme, e stanno iniziando anche a conoscersi, sul piano personale, sul piano emotivo, quindi di conseguenza è un po' complicato, loro vivono infatti il viaggio di ritorno, in prima della passione più bruciante, però con la consapevolezza, che quando saranno tornati a casa, le loro strade si separeranno, perché la vita di Samuel è a Parigi, mentre Margot, a parte che ha paura di volare, non vuole lasciare la sorella, quindi di conseguenza, poi c'è anche tutto il casino della truffa, insomma i problemi non mancheranno, per i nostri Samuel e Margot, quando appunto le cose cominceranno a concretizzarsi, e Chiara come sempre, ci regala una storia emozionante, divertente, frizzante, ma anche, soprattutto verso la fine, intensa e profonda, perché i due dovranno venire a patti, con i sentimenti, che provano l'uno per l'altra, devono venire a patti, con il fatto, che sarà molto difficile vedersi, e se è davvero possibile portare avanti una storia a distanza, la sottoscritta vi dice che è abbastanza improbabile, ci ha provato due volte, due volte si è presa nel culo, quindi di conseguenza, io non sono una grande stigmatrice delle relazioni a distanza, hanno dimostrato che, anche quella ciofeca di dalla mia finestra, ci hanno dimostrato che le relazioni a distanza non funzionano, anche quelle che già sono disfunzionali di per sé, quindi di conseguenza, se volete sapere se ci sarà il rietto fine, dovete assolutamente leggere questo romanzo, se cercate appunto una storia per staccare un pochino, per divertirvi un po', per sognare, se vi piacciono appunto le storie con i viaggi on the road, questi capitano in degli alberi, il primo alberi in cui si fermano, mio Dio, poveracci, cosa gli capita, insomma una roba la sarà a spaccare dal ridere, e comunque sempre con quella nota di intensità, comunque che caratterizza i romans, io vi dico che The Love Trip di Chiara Venturelli, fa assolutamente per voi, anche perché Chiara ha uno stile talmente scorrevole, che questo libro si beve, solo io che me la sono presa con calma, perché nel mentre che stavo leggendo questo libro, sto anche seguendo un po' di serie, un po' di cose così, è uscita Fallout, devo recuperare Shogun, gli X-Men 97, gli anime, non ce la posso fare, quindi sono dovuta andare piano, e poi sapete che a me i libri che mi prendono particolarmente, me li gusto come la Vallelata, come ho fatto appunto con questo romanzo, ma vi posso assicurare che il libro non perde mai colpi, va sempre spedito, ogni capitolo è sempre un'avventura, e quindi se cercate un romanzo, che abbia tutte le caratteristiche che vi ho elencato, andate nel link in descrizione, e cliccate su acquista, perché The Love Trip è il libro che state cercando. Bene, questa recensione si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta, e vi ricordo come sempre, che se vi piacciono le magliette, come quella che sto indossando con il piccolo drogu, this is the wave, bellissima, le trovate su pampling.com, in cui in questo momento c'è una promo fantastica, ovvero tutto al 50%, c'è una maglietta come la mia, invece che 14,90, la pagate 7,90, sono bellissime, sono di cotone, quindi non fa che io, io ragazzi in questa camera sto cuocendo, eppure con questa sto bene, per quanto si, quello sudo, ma quello è un problema mio, è il mio corpo che fa schifo, non è colpa della maglietta, anzi la maglietta è bellissima, e vi ricordo come sempre, che se aggiungete un paio di calze al vostro carrello, quando fate l'ordine, dove si mettono i codici sconto, inserite il mio, star 86, le calze sono gratis, quindi in questo momento potete avere le magliette, ma anche tantissimi altri prodotti, scontati al 50%, e con il mio codice sconto, potete avere anche un paio di calzini gratis, che comunque servono sempre, quindi approfittatene, perché non so quanto durerà questa nuova promo, link in descrizione, pampling.com, magliette bellissime, e il mio codice sconto, per un paio di pedalini gratis, se questa recensione vi è piaciuta, mi raccomando, andate qua sotto, c'è il pollice in su, e mettetemi un bel like, per farmelo sapere, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su TikTok, seguite anche Chiara Venturelli, su Instagram, e cliccate sulla campanella, per attivare le notifiche, e non perdervi nessun nuovo video, soprattutto ragazzi, commentate, fatemi sapere, avete letto questo romanzo, cosa ne pensate, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, magari rispetto ai libri di Chiara, vi ha convinto meno, oppure quello che vi ha convinto, di più in assoluto, siete dei fan di Chiara Venturelli, leggete tutti i suoi romanzi, e anche questo, vi ha colpito, oppure c'è stato qualcosa, che non vi ha convinto, insomma, fatemi sapere, civilmente ed educatamente, cosa ne pensate, perché i commenti li legge anche Chiara, confrontiamoci, perché i vostri commenti, non solo mi fanno un sacco piacere, ragazzi, perché io vi leggo tutti, ma i commenti, aiutano l'algoritmo, a spingere il video, e questo vuol dire, più visual per questa recensione, una sala più contenta, e anche più sostegno, per Chiara, così facciamo conoscere il suo romanzo, a più persone possibili, se no, perlomeno, condividetelo su tutti i vostri social, con tutti i vostri amici, che amano leggere, e anche con chi non legge, almeno si vuole fare due risate, io vi mando un bacione enorme, ringrazio Chiara, per la sua gentilezza, al Festival del Romance, per la dedica, e per questa storia, e spero che questo, video tesoro, ti sia piaciuto, e noi, ci rivediamo, al prossimo video, ciao a tutti, Ciao a tutti,